Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Anaracosa e preferiti e bentornati su Monster Hunter. Video introduttivo alla serie, video introduttivo alla serie, non ho giocato tantissimo ancora, come vedete siamo a 9 ore e 12 minuti, qua mi faccio una bella sessione mia privata così non ho problemi, e questo video se va a spiegare a tutti voi cos'è Monster Hunter World, questa epopea, questa ultima fatica della Capcom, questo gioco che chi come me è fan di Monster Hunter tipo sta aspettando dalla Play 2 per farvi capire da quanto tempo. Allora per ora come vedete ho avuto poco tempo per giocare, sono 9 ore di gioco, di cui molte passate nel farming più terrificanti per la preparazione dei prossimi video, hai video guida sui mostri, video analisi sui set, sulle armi, quindi ce ne sarà tanta, tanta, tanta. Sto iniziando a giocare con un'arma con cui non ho mai giocato negli scorsi Monster Hunter, la nostra carissima lancia insetto, che non per forza è l'arma migliore, l'arma migliore dovrebbe essere in questo qua, da quanto ho visto nella beta, l'ascia caricata, una delle cose più barate che possano esistere, soprattutto quando carichi totalmente e l'ascia caricata quella con lo scudo, se non erro, l'ascia anche con lo scudo, la puoi caricare e fare delle combo mortali, io invece come state vedete ho un bonus d'accesso, perfetto. Grazie mille, ho reso un zero don, devo sperare di riuscire a farla, Ok, come vedete ci sono nuove missioni attive, cos'è Monster Hunter? Allora ragazzi, Monster Hunter è un gioco di caccia alla fin fine, è un gioco che si può affrontare sia single player che multiplayer, in cui voi sarete un cacciatore, il cui obiettivo sarà quello di cacciare dei mostri, i mostri dropperanno le loro parti del corpo, con cui potete creare delle armi da armature per cacciare i mostri più forti, e così viene in un circolo vizioso. Attualmente il world dovrebbe essere diviso in due difficoltà, low rank e high rank, e in futuro verranno aggiunti nuovi mostri, sia tramite DLC gratuito, che probabilmente anche in Season Pass. È stato annunciato il Devil Joe, ad esempio come... scusate... come mostro in un futuro DLC. Le armi nel gioco sono tante ragazzi, ognuna con un proprio stile di combattimento, ora ve ne mostro alcune. Come vedete ragazzi, le armi sono tante. Queste sono tutte le armi disponibili del gioco, abbiamo lo spadone, classica arma lenta, ma che fa danno altissimo, la spada lunga, la katana, con la demonizzazione, spada e scudo, classica, attacchi veloci, possibilità di pararvi, doppie lame, velocissime, danni bassi, ma ottima per le alterazioni di status, e per gli elementi. Martello, anche questa lenta, ma a differenza dello spadone, ha danno contundente, in quanto si ragazzi, hanno tre tipi di danno, contundente, affilato e proiettile, spiegherò tutto quanto. Il corno da caccia, che io consiglio prevalentemente per il multiplayer, in quanto permette di dare numerosi boost, a tutti quanti i calciatori, in base a quali sono i suoni che fate. Lancia e lancia fucile, di base sono una lancia, la lancia fucile può anche sparare, quindi ha doppio tipo di danno, la lancia, classica arma molto difensiva. Spadascia e lama caricato, che non avevo sbagliato, la spadascia è una spada, che può andare in modalità ascia, quindi molto versatile, la lama caricata, è una spada e scudo, che si può confondere in una mega ascia, che si può ulteriormente caricare, è un casino, falcioli insetto, quello che sto usando io, l'unica arma del gioco, che vi permette di saltare, praticamente, saltare può essere utile, in quanto, ora faremo anche una missione molto rapida, vi permette di salire sopra, il vostro nemico, gli insetti invece, vi regalano numerose abilità aggiuntive, le due balestre, leggere la pesante, che hanno diversi tipi di proiettili, e possono colpire a distanza pesantemente, e l'arco che tra un po' inizierò a crearmi, in quanto io sempre, intendo sempre a usare due tipi di armi, quando devo ancora decidere, se andare di balestro o di arco, tra un po' inizierò un farming, in cui preferirò andare, di arma a distanza, il barriot, no, il barrot, il barriot è un altro, il barrot, dato che l'ho sbloccato, nell'ultima missione, ma devo ancora finire di farmare il, vedrete cosa devo finire di farmare, faremo, proprio quella sfida ora, armature invece andranno a set, come potete vedere, qua, come vedete il pukhei, mi manca, un cavolo, di pezzo, per farlo, e sarà proprio la caccia, che faremo adesso, perché sì, io in questi giochi, sono abbastanza, fissato, forse per me, cercherei di avere, tutti quanti, tutto quello che vedete qua, tutto, niente escluso, con, il simbolino rosso, che indica che ne ho una parte, sia, per le armature, che possibilmente per le armi, per me quello è il completismo, in Monster Hunter World, è stato anche facilitato, sotto certi aspetti, quindi sarà quello, a cui mi rinno, poco da dire, mi rinno ad avere, mi rinno ad avere tutto, tutto il possibile, in modo poi, da divertirmi, grazie al sistema di abilità, a crearmi dei set carini, cosa sono le abilità? Quelle che vedete, qui, ogni set, avrà, un'abilità, di un determinato livello, non si va più, ad avere, che ci vogliono, un tot di equipaggiamento, di fare un'abilità, no, qua, ogni paese di equipaggiamento, vi dà, in automatico, un'abilità, di diversa potenza, in questo caso, abbiamo, quest'elmo, che dà, ruba resistenza, quindi aumentare, 10%, il, il, il modo di affaticare, gli avversari, può essere utile, in quanto la fatica, contro alcuni nemici, come il Joe, sarà abbastanza simpatica, per fargli mangiare, le bistecche avvelenate, tutte, e permette, molta più personalizzazione, dei propri set, perché è davvero, un qualcosa di centrato, per andare contro i nemici, oltretutto, le varie equip, hanno varie difese elementali, che andremo a trattare, quando affronteremo, le analisi dei vari set, e nelle armi, non vi ho mostrato, prendiamo uno spadone, qua non si vede qua, vabbè, avete, avete la categoria, avete l'attacco, l'acutezza, l'acutezza indica, quanto è resistente l'arma, quanto può andare a fondo, nelle carni dei mostri, più l'acutezza è bassa, più i mostri, più resistenti, potrebbero farvi, rimbalzare l'arma, l'affinità è il critico, la nostra 10% di fare un danno critico, e l'attributo sarebbe l'elemento, che attualmente ci manca, abbiamo poi anche armi per, il nostro carissimo felino, il nostro caro Sommo Periscil, come vedete, equipato con tutta l'arma del Pukhei, eh, l'angia, lo so, sono riuscito a prendermi, un po' di pezzi di angia, affrontandone uno, una missione, rischiando la morte, sono morto male, naturalmente, però è probabile che ti dia, mi prenderò di sicuro anche l'equipe del Barrot, per lui, lui non mi interessa più tanto farlo perfect, abbiamo le personalizzazioni della balestra, ragazzi, perché sì, possono essere inserite, fino a tre modifiche a balestra, quindi si possono mega personalizzare le balestre, in base alla rarità in cui vengono migliorate alcune cose, la ricarica, la mira, la potenza a lungo raggio, per le maestri pesanti lo scudo, tanta roba, e infine, in questo caso del falcione insetto, si possono evolvere gli insetti, io attualmente ne ho due, uno che fa danno tagliente e velenoso, che andrò a usare con l'armatura che mi sto creando, e un altro invece che fa danno conduttente, è da guarigione, che se trovassi due ossa rocciose, potrei anche evolvere, solo un cristallo terra ci vuole, questo qua vediamo se non riusciamo a evolvere allora dopo, e questa era una rapida infarinatura delle armi e dell'armatura, come vedete ogni arma armatura richiede dei pezzi di mostri di diversa rarità, e poi abbiamo, poi abbiamo che non devo andare qua, è anche vero, vado qua, e poi abbiamo le missioni, ovvero il gameplay vero e proprio di Monster Hunter, ci sono missioni facoltative, missioni storia che vi permetto di andare avanti, e poi le taglie, che sono qui, le taglie, ok l'avevo già accettata, sono una novità, di Monster Hunter World, sono una velocizzazione di come si può farmare, allora normalmente come si faceva prima per farmare, se andava in facoltative oppure in cariche, se andava a vedere, quale poteva essere la missione, in questo caso, io vorrei farmarmi lui, per avere tutti i suoi pezzi, se andava qua, si affrontava, si aveva delle persone, di avere tutti gli oggetti, e tutto, adesso invece come funziona, ora si può andare direttamente in taglie, sbloccare la taglia che si sblocca giocando, e oltre ad avere, il, oltre ad avere i normali, no no, voglio iniziare dal, qua, oltre ad avere i normali, drop, avete due drop bonus, non comuni, e questo ragazzi vi può aiutare, perché quando riuscite a sbloccare delle cacce, delle taglie rare, che possono essere usate solo un tot di volte, per alcuni mostri, vi aiuterà, quando cercheremo le piastre Rathia, le piastre Rathalos, i rubini Rathalos, o gli equivalenti, la gemma del Devil Joe, e tutta questa roba, vedrete che, sarà meglio averle, e mi vanno a affrontare il Pukai Pukai, questa non è una guida, giocherò molto, per vedere come è il gioco e tutto quanto, poi, tra, stasettimana probabilmente, il coniglio intanto è deceduto, stasettimana inizierò a girare le guide dei primi boss, farò, una guida per boss, in tutte le difficoltà, che affronterò naturalmente, con l'arma che riterrò più utile, per questo sto andando un po' avanti, per girare queste guide, scusate, apposta per, apposta per poter, prendere materiali, farmi più armi, andare direttamente contro lui, con un'arma che mi sembra utile, per battle al meglio, perché io giocherò probabilmente, solo con un'arma a distanza, e con questa, il più possibile, poi è probabile, che ci saranno alcune battaglie, in cui non potrò andare con quest'arma, benché il gioco sia fattibile, con qualsiasi arma voi scegliate, dall'inizio alla fine, potenziandola, poi sì, ci sono anche qua i pazzi, che riescono a fare qualsiasi cosa, con qualsiasi arma, allora, abbiamo iniziato la missione di caccia, durante il vostro, muovervi nella mappa, potrete prendere vari oggetti, che verranno, come potete vedere, no, sto sbagliando completamente strada, verranno, evidenziati, ok, sto sbagliando completamente strada, queste luci che vedete, sono gli insetti, insetti che vi aiuteranno, a, trovare il mostro, utile soprattutto agli inizi, quando non siete ancora, in grado magari, di capire da solo, dove si trovano, ma, ormai ho imparato, che il nostro caro, Pukkei Pukkei, vabbè, questo è un Kukku, di cui non mi interessa nulla, infatti, se ne va anche via, senza minimamente, fregarsene della mia esistenza, fa meglio lui, sì, avete visto che mi mancano, dei pezzi per finire l'armatura, del, ok, ciao, dicevo, avete visto che mi mancavano, dei pezzi per finire, l'armatura, del, del, il Yaku, ma, non mi mancano, ecco, non mi mancano, pezzi suoi, ma di alcuni, vivernalati, allora, questo è il sistema, di combattimento ragazzi, come vedete, il vostro nemico, sarà unicamente, molto spesso, il boss, qua dovrei cercare di giocare un pochino meglio, però, tra lo spiegare tutto, ogni boss, questo un pochino mi rompe come cosa, ogni boss, ha pattern diversi, questa è la cosa divertente di quest'arma, vi permette di saltare, e saltando, potete andare sul nemico, ogni boss ha tre fasi, possiamo considerarle, poi alcuni, hanno anche ulteriori fasi, in base, qua è arrivato il Yaku, che non saprà cosa fa della sua vita, tuorello, ok, andiamo, allora, le fasi sono, la fase normale, che è questa dove siamo, la fase di rabbia, che di solito la riconoscete, perché il nemico, cambia fisicamente, nel caso, del nostro carissimo, lucertolone alato, diverrà proprio rosso, e infine, avremo la fase in cui sarà stanco, che sarà tra le migliori, ove, ferirlo al masso, perché sarà più lento, alcuni suoi attacchi falliranno, in automatico, qua non ho colpito il rosco, vero, attenzione che ha velena, e queste fasi verranno di solito, allora, la fase di rabbia, può apparire a random, cioè, quando vi fate un tot di danno, appare, tranne alcuni mostri, che sono proprio incavolati di loro, che possono partire anche, in fase di rabbia subito, il Jho di solito, è in perma rabbia, quasi, dopo che ci va la prima volta, in altri casi, oh, grazie, ok, evitato, eh sì, come vedete, sparo un po' di veleno, il ragazzotto, pesce, e segniamo, ormai dovrebbe essere vicino, a incavolarsi, qua ci hanno avvelenato, andiamo a usare l'antiteto, come vedete, in realtà, lui non può avvelenarvi, non può usare il suo veleno, sin dall'inizio, per lanciare il veleno, deve prima, ah, questa scappando, per avere il veleno, deve prima mangiare, quindi volendo, in realtà, potreste anche impedirgli, di lanciare il veleno, nel caso riusciste a fare, dei danni assurdi, è quasi impossibile, soprattutto a livelli, mediamente bassi, però, se lo affrontate, quando siete molto più avanti, ce la fate senza problemi, come vedete, seguendo le impronte, dei mostri, aumentate una barra, che vedremo, finita la caccia, a cosa vi porta, ed ecco qua, troppo io si dovrebbe incazzare, così vi riesco anche a mostrare, la sua fase rabbia com'è, ah si, come vedete, a volte i mostri, vi permettono anche, di sbloccare passaggi, in questo caso, abbiamo sbloccato il passaggio, qua, che può esserci più che utile, in realtà, se lo riusciamo ad attirare, vieni, 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 perché qua abbiamo l'oro, quanto pare, più facile dirsi che a farsi, attirarlo, non me vale minimamente la pena, se ci mettiamo 5 anni, in realtà, ci metto un quarto d'ora, con questo, in quest'armora, a ucciderlo, e la telecamera, se non, però, se non, mettete in mezzo, di cui potete comunque, come vedete, prendere, qui di una parte, può avere un pochino, di problemi, ma è la classica telecamera, di Monster Hunter, un po' come in Dark Souls, i problemi, della telecamera, sono all'ordine del giorno, cosa importante dei mostri, anche se agli inizi, lo noterete poco, ma già da questa fight, è notabile che tutti i mostri, che più chi meno, hanno delle parti rompibili, nel caso del nostro carissimo, lucertolone, abbiamo la testa, che possiamo rompere, le ali, che possiamo sfasciare, e la coda, che possiamo tagliare, quindi dovete cercare, se riuscite, di mirare, proprio, a quelle parti, ora come vedete, in alto, è cambiato, il colore dell'arma, in quanto, ha perso dei punti, il nostro obiettivo, quindi qual è? Ricaricarla, intanto abbiamo, i nostri insetti, che gli fanno danno, ecco che si è incavolato, come vedete, cambia il colore, e in questo caso, in questo caso, ma non sempre, ah ok, è arrivato anche il Jagras, la sua incavolatura, è unita anche, a un cambio di zona, i mostri cambieranno, spesso zona, è qua, è lui, si si è lui, quindi sarà, un po' una caccia, vera e propria, è stata tolta, la meccanica, la, di pitturarli, per sapere, a memoria, dove sono, facilitazione, che però ci sta, come vedete, ci sono già, tre boss, in questa mappa, cioè noi volendo, potremmo lasciare, se siamo abbastanza forti, possiamo anche lasciare, lui per ultimo, tipo, se qua mi sto facendo, fare una marea di danni, semplicemente, perché tanto, ho l'insetto, che può curarmi, il, il gatto, che può curarmi, quindi, proprio le più, preoccupazioni di ricevere danno, sono tra le più basse, che ci si è arrivata, vedete, gli insetti, lasciano queste, scie, che quando vengono attaccate, ecco, ecco fatto, ecco qui, ci sono saltato, proprio bene, al suo giro sopra, dovete solo stare attenti, quando state sopra, che potrebbe capitare, che lui vi voglia, buttare via, ma vi dà alcuni, segni, tenete premuto, R2, e se lo sogno, e continuate a picchiarlo, a sangue, la fase di stanchezza, la notate, in quanto, vedrete, che tipo, il nemico, si muove strano, sbava, nel caso sia un carnivoro, e cose simili, ora sono arrivati, anche tutti loro, ad approfittarne, di giagra, non siete lasciati al caso, nemmeno quando rompete, le parti, come vedete, ne è stato detto, che ho rotto la testa, ok, e non sarete lasciati soli, neanche, quando un nemico ha poca vita, altra cosa, che negli scorsi, Monster Hunter, era lasciato, un pochino, alla conoscenza, rotta anche un'ala, si la coda, non mi interessa rompergliela, l'importante, spaccargli le ali, e la testa, ok, rotto, ora giusto per completare, potrei rompergli anche la coda, dicevo, guardando la mappa, a un certo punto, mi capiterà, se lui scappa, di vedere un teschio davanti, sopra di lui, quello indica, che il nemico, ha poca vita rimasta, quindi che sta, ecco, vedete, ora lui cosa sta facendo, si sta mangiando la roba, e successivamente potrà, di nuovo utilizzare il veleno, ok, ed ecco fatto ragazzi, come vedete, davvero, davvero facile, ora vedete che zoppica, questo è un altro segno, che ormai, alla fine, se vedete nella mappa, si vede infatti un teschio, e questo sarebbe il momento giusto, se voi voleste catturarlo, in quanto, in Monster Hunter, non dovete per forti, uccidere il mostro, c'è anche un po' di cattura, la cattura, è un po' più complessa, perché vi obbliga, a far rimanere il nemico, sotto un tot di vita, e poi utilizzare, però degli oggetti, che in questo momento, non ho, in quanto, alla fine, non ho ancora avuto, una motivazione, ecco qua, il Kutku, non ho ancora avuto, una motivazione, per, prendermeli, anche se ho sbloccato, da poco, una missione di cattura, qua, il Kutku si è incavolato, non so per quale strano motivo, si sia incavolato, ma va bene, ok, ora devo cercare, di non farla, assolutamente cavolata, perché a un certo punto, Pukkei Pukkei, Kutukatku, no, a me non mi interessa, il Kutukatku, va bene tutto, Kutukatku, e tutto quanto, ma, ti ho già farmato, abbastanza, qua c'è il Jagras, ecco vedete, in pratica, seguite, che spero, mi stiamo andando, al, mostro giusto, ma direi di sì, perché il Jagras, era l'attaccato a me, si ragazzi, lasciamo perdere, sempre, sempre, sempre i momenti chiave, anniversario alto, mi ammalo, mi sembra presa in G, eccolo la, solita zona di, non so se si è ancora neanche addormentato, si perché i nemici possono addormentarsi, no, infatti sta mangiando, tranquillo, e questa, e questa di solito, è l'ultima parte, della caccia, perché quando viene qua, si addormenta, nel caso il nemico dorma, ed è una strategia, che nelle cacce, più grandi, viene utilizzata, uh, calcio benefico, oh, caduto, dicevo, quando il nemico dorme, si aumentano i danni, che gli infliggete, di un 2x, quindi raddoppiate il danno, che infliggete, di solito si tende a utilizzare, una, attenzione qua, ancora, dicevo, di solito si tende a utilizzare, per in quel momento, dell'esplosivo, robe simili, ora, quelle sono tattiche, vi dico, che utilizzo con l'arco, con l'arco, e con la balestra, vado tantissimo, di cose simili, perché mi prendo, quando l'arco e la balestra, che possono farlo, vado di proiettile su porifero, all'inizio, e faccio subito, darlo alto, non deve mai essere alla fine, si ragazzi, nemici, aggiungo anche, che all'inizio, avrei voluto mettervi, tramite calcoli, durante il video, tutto quanto, la montagna di HP, di ogni boss, poi però, mi sono ricordato, vedete che ho sbloccato una taglia, che probabilmente, sarà proprio del Pukai Pukai, che i nemici, non hanno HP stabili, ora vi spiego, oltre ad avere, delle dimensioni diverse, perché come vediamo, ma se questo qua, ecco fatto, vediamo la base, i nemici, in base alle loro dimensioni, hanno HP diverse, nel caso incontrate, un Pukai Pukai piccolo, avrà meno HP, un Pukai Pukai grande, avrà molti più HP, un Pukai Pukai gigante, che però ce ne vuole, a trovarlo di giganti, di solito, sono in molte missioni evento, gratuite, che vengono messe, durante la vita del gioco, ci sono proprio delle missioni, in cui tipo affrontate un, allora immaginate, un drago, gigantesco, un uragan d'acciaio, quindi fatto di metallo, enorme, in questa missione evento, c'è una versione minuscola, grande come Priscina, come Priscina no, ma grande, metà essere umano, che fa gli stessi danni, tutto quanto, però è piccolissimo, ed è difficile, sarebbe difficilissimo, quasi se non impossibile, trovare in quelle dimensioni, nel gioco, unicolo di trovarlo, tra me, è questa missione evento, che vi aiuta, perché ve lo memorizzate, comunque, ve lo faccio vedere, finendo questa taglia, se ci sono questi secondi, in realtà, potrei anche tornare all'accampamento, ecco, come ho fatto, scazzando, quindi finita la caccia, voi potete scegliere, se tornare all'accampamento, quindi andare avanti con un'altra caccia, o fare un'esplorazione, l'esplorazione è semplicemente, andate free roaming, tra virgolette, a uccidere chi volete, ho trovato, vediamo un pochino, scaglia, penna, corazza, scaglia, dai, un'altra corazza, ok, abbiamo finito il set, qua ci sono le ricompense, allora, qua penso che manca una ricompensa, sì, allora avete i soldi, i punti ricerca, che verranno utilizzati per varie cose, livello del compagno, livello dell'equip del compagno, poi di solito c'è anche il livello della ricerca del mostro, che ora vedremo, anche se ho sbagliato, e siamo in modalità libera, tra virgolette, il colleghi ha proprio il partito, intanto, ma è partito malissimo, noto, stima profonda, Priscilla, se potessi io star bene come te, pagherei, pagherei da dove, ecco, qua siamo andati in modalità libera, in pratica possiamo rigirare tutto quanto, la c'ho anche un punto ancora, come faccio un punto ancora così? no, dovrebbe aver sbloccato tutto, penso, sì, vedete questa è la mappa, ma non la sbloccate subito tutta, dovrete prima girarla, alcune parti saranno bloccate dalle missioni, eccetera, eccetera, quindi la sbloccherete man mano, oh no, no no, la 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 la, potete vedere qualcosa, ah no, la trappola rocciosa, ok, ecco, quindi ora io potrei andarmene a caccia, tranquillo, in giro, invece scelgo, guarda qua, rientra dalla spedizione, tranquillo, in quanto non mi interessa cacciare altro in questo momento, in questo video, ora vi mostro anche il nuovo set, in quanto c'ho anche l'arma da usare per quel set, siccome vedete qua ho sbloccato solo i primi due idiomi, la foresta e il idioma, no il bio ma non idioma, il bio mammon desertico, di cui però ho fatto praticamente una missione sola, ho visto la Rathian, è una bella sfida tra me e la Rathian, qua ho provato a fare il Rathalos, ma non è facile solo riuscire a uccidere, impegnandomi molto, riprendendo la mano nel gioco e tutto quanto, e magari con un'arma elettrica, se no che non ci sono armi elettriche, a questo punto del gioco come è anche giusto, perché le armi elettriche funzionano su una marea di mostri, allora, qua abbiamo sbloccato, faccio vedere tutto quello che abbiamo sbloccato, abbiamo sbloccato una nuova taglia, ovvero una doppia caccia, e un'altra caccia, le cacce non sono per forza sbloccabili del mostro che state affrontando, in questo caso potete vedere che la posso fare altre quattro volte, quindi, se io volessi farmarmi bene lui, mi faccio questa piuttosto che l'altra, perché ho due oggetti bonus, se volessi farmarmi loro due insieme, faccio questa, attenzione perché come vedete, ci sono delle modifiche, tipo, in questa avrete meno tempo, in questa avete pochissimo tempo, questa potete perdere una volta sola, quindi vanno anche a difficoltà aumentata, affrontando il Pukkei Pukkei, e in generale affrontando i vari mostri del gioco, sbloccate anche questo, esattamente, come vedete abbiamo sbloccato un pochino di cosa, in pratica abbiamo le ricerche, che ci mostrano quanto sappiamo del mostro, il Pukkei Pukkei è molto più avanti del Kulukatku, il che è tristissimo, quindi una tristezza assurda, perché lo farmiamo, il Barrot è già il 2, non so come cavolo ha fatto il Barrot è già il 2, ma va bene, l'Ajrat è a metà dell'1 per quel po' che ho affrontato, la Rata è anche così, il Rathalos, quando ho provato ad affrontarlo, dunque a cosa serve tutto questo? Semplice, voi quando, voi continuando a combattere, prendendo informazioni sul campo, e altro aumentate questi valori, io ora voglio il Pukkei Pukkei, quindi, vado in guida dei mostri, vado sul Pukkei Pukkei, e ho tutti i dati, ho qua quanti li ho uccisi, quanti li ho catturati, quando, qualcune informazioni, ovvero che se incontra un mostro più forte di lui scappa, qui potete anche capire la forza, che può avvelenare tutto, abbiamo poi tutte le sue parti, abbiamo la coda, le ali e la testa, con la cosa sono vulnerabili, gli elementi a cui è resistente, a cui è debole, le anomalie di status a cui è resistente, e a cui è debole, e le ricompense che si possono ottenere, che è la cosa più importante di tutte, ovvero, uccidendolo, che cosa succede, rompendolo, che cosa succede, hai queste ricompense in più, utilissima cosa che non è raggiunta, qua, ciò che è nel, fa il bufetto di là, ed è una cosa che ti dà la voglia, di continuare a farmare il mostro, anche se magari è già tutto quanto, comunque, il Pukai Pukai, lo stavo, lo ho affrontato in questa, missione per farvi vedere, meglio il gioco rispetto al video 0, questo era lo 0.2, probabilmente pre serie, sia per vedere, come lo sto affrontando io, sia per farvi vedere, com'è la versione finale, fatto per questa, allora, si 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 si, forgia, non accompagno, armature, ok, ultima parte del Pukai Pukai, ah ecco qua, scusate, ed eccoci qua, cambio equipaggiamento, allora, eccola qua, arma di Pukai Pukai, set completo del Pukai Pukai, a cui in realtà manca una cosina, manca una cosina che penso di dover andare agli alloggi, no, non è che si cambiava, ho un dubbio su dove si cambiava una cosa, equipaggiamento, vedete con dubbio amletico su dove si cambiava, no, qua devo prendere assolutamente il cristallo terra, vabbè, ora farò una missione per il cristallo terra, comunque set completo di Pukai Pukai, incentrato sull'infliggere status veleno e tenersi il veleno, dopodiché penso avrei fatto vedere quasi tutto, ah qua c'è una nuova missione, potete ottenere le missioni facoltative anche fuori, in questo caso vi ha dato, uccidi 7 Gajau, delle guglie selvagge, uccidi 14 Vespoid, per i Vespoid quest'arma è un toccasana, perché sono dei cavolo di nemici davvero, molto molto eccessivamente delicati, poi buono, penso di avervi fatto per vedere pressa poco tutto, loro dovrebbero essere ancora inutilizzabili, esatto, ancora inutilizzabile, qua è ancora inutilizzabile, bisognerà sbloccare ancora tante cose, sono agli inizi ragazzi, totalmente agli inizi, ultima cosa, devo acquistare un pochino di cosine, qua, e poi voglio acquistare la cassa oggetti, un po' di intrappolatore, ecco fatto ragazzi, questo in pratica è mostrato, ci siamo fatti insieme anche il set, in modo da essere belli carichi, per le prime guide, che forse una registro già oggi, noi ci vediamo con la serie, e ci vediamo, non so quando uscirà questo video, col terzo anniversario di Dokkan, grazie a voi in seguito, e che la caccia abbia inizio per tutti, il gioco naturalmente, disponibile attualmente, per One e Play 4, arriverà anche per PC ma più avanti, alla prossima!